Buongiorno, anzitutto vorrei ringraziare gli amici del Festival Internazionale della Poesia di Milano per avermi invitato. Ma guarda che mica ti hanno invitato loro! Buongiorno, innanzitutto vorrei ringraziare il Festival Internazionale della Poesia di Milano per avermi dato questa opportunità e vorrei dedicare poche parole che ho scritto a me e a tutti gli amici che amano scrivere. Spero che vi piacciono! E' fantastico leggere le biografie dei grandi poeti. Ad ogni passo esclami, anche per me è uguale, vorrei dire che sono un grande poeta anch'io. E' un po' come sfogliare l'enciclopedia medica e ammalarsi in ordine alfabetico. Comincio a soffrire di alluce valgo e crepi di zico micosi.